Michele De Lilla, da oggi segretario nazionale dei trasporti USAE, come si sente con questo in carico e che cosa farà da domani? Sono contento e da domani, visto che sono coordinatore di un dipartimento della consorzio CAI, gestiremo anche la sicurezza sul lavoro per le società, visto che da giugno è obbligatorio anche per aziende inferiori ai 10 dipendenti. E quindi in cosa consiste questo incarico che lei ha ricevuto? Cioè da domani che cosa cambia per lei? Ma adesso parleremo con Adamo Bonazzi, vedremo un attimino di incrementare il discorso dei dipendenti che lavorano nei trasporti e spero che ci sia anche un accordo nazionale tra i dipendenti e l'imprenditore, visto che comunque ci sono grossi problemi da quello che sto vedendo. Dal punto di vista della sicurezza nelle imprese, da che punto di vista ci sono dei problemi? Ma i rischi aumentano, però grazie a questo mandamento che è stato allargato da tutte le aziende inferiori ai 10 dipendenti. Siamo praticamente le aziende e noi obbligati a redigere un documento di rivoluzione dei rischi e cercare di diminuire i rischi nelle aziende, soprattutto per i trasportatori, appunto, visto che mi occupo di trasporti. Per quanto riguarda il suo comparto, quali sono comunque le battaglie che lei si sente di sposare per il futuro, per l'immediato futuro? Ma sicuramente gli interventi dell'ASL sono molto pressanti e quindi cercheremo di chiedere all'ASL di chiedere solamente il necessario per continuare a lavorare. Perché comunque le società sono... Cioè, diciamo che i controlli delle ASL sono troppo presenti. Esatto. No, sono molto pressanti. Pressanti. Nel senso che chiedono sanzioni altissime e le società non ce la fanno a sostenere tutti questi... Questi oneri, certo. Io veramente voglio ringraziare a questo punto da Michele De Lilla per essere stato qui con noi in questo margine del dibattito generale dell'USAE e faccio ancora i complimenti perché da domani avrà questo ennesimo incarico che lo vedrà attore principale di un sindacato indipendente come l'USAE, quindi segretario nazionale dei trasporti, veramente in bocca al lupo. Grazie. Prego.